Col prossimo servizio ci spostiamo a Santo Stefano di Camastra dove è stato presentato un volume che parla della storia archeologica del centro delle ceramiche. La storia archeologica di Santo Stefano di Camastra è scritta e raccontata nel primo volume dei quaderni di archeologia nebroidea curati dall'associazione Restart presieduta da Vittorio Alfieri. La pubblicazione è stata presentata nella splendida location dell'antica fabbrica dei fratelli Gerbino, alla presenza tra gli altri è l'onorevole Marcello Greco, presidente della Commissione Cultura a Lars. Il testo analizza le scoperte archeologiche rinvenute nel territorio della città delle ceramiche, la necropoli siculo greca del V secolo a.C. in Contrada Ria, ai confini del territorio di Caronia, la villa romana e l'abbazia basiliana di Contrada Vocante e l'avamposto militare frequentato dai mamertini di Monte Treffinai. Una copia del primo volume, interamente tradotto in inglese dalla dottoressa Maddalena De Rosa, sarà inviato alle più prestigiosi università internazionali perché ne facciano oggetto di studio e di ricerca. Vogliamo lanciare un SOS culturale facendo arrivare questo testo tradotto in inglese sulle scrivanie delle principali cento biblioteche e università del mondo affinché si accorgano e soprattutto prendono a cuore gli esponenti della comunità scientifica internazionale, i nostri beni culturali e archeologici che in questo momento sono abbandonati dalle istituzioni. L'iniziativa fortemente voluta dal vice sindaco Fausto Pellegrino nasce dalla sensibilità artistica di Vittorio Alfieri che non nasconde la soddisfazione per la pubblicazione del volume ma sottolinea le enormi difficoltà riscontrate per arrivare fino a questo punto. Il problema è quello che accomuna molti altri aspetti della sicilitudine, ovvero il bene privato, privatistico, spesso campanilistico, piuttosto che quello collettivo, comunitario. Adesso sembra che qualcosa si muova anche grazie all'interessamento della Commissione Quinta Cultura preso dal dottore Greco e quindi se c'è già l'attenzione da parte della regione siciliana tutto quello che c'è sotto di loro di conseguenza dovrà comportarsi.